Ciao Italia! Questa sera vorrai mangiare frigo e polenta oppure la pasta alla norma e poi mangiare una bella bistecca alla Fiorentina e per finire una ciambellina al vino. Ma dovrai aspettare luglio per gestire tutte queste prelibatezze perché sarò proprio nel vostro bel paese a partire dal 12 luglio in Turin tutta Italia. Udine, Perugia, Trento, Gardona, Riviera, Firenze e per finire allo splendido teatro antico di Tormina. Suonare con un'entera orchestra e tre Soul Sisters alla voce Ascolrete e mititi i brani di polis Messaggi in a botella E vrebradioteca Walking onto the moon Non vedo l'ora di sedermi alla mia batteria E di sedermi a tavola See you there!